Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay It, oggi siamo su Die Young, gioco che non avevo mai portato sul canale e gioco che oggi, 12 settembre, il giorno che sto registrando, è uscito in versione 1.0 dopo un paio d'anni di beta o alpha, come si chiamava. Il gioco è sviluppato da italiani, ma al momento purtroppo non è in italiano, non che ci sia moltissimo da capire, perché il gioco è uscito poi a luglio, se non ricordo male, anche in versione Prologue, che è una versione distribuita gratuitamente, che ora invece trovate con il gioco base. In che cosa consiste? Beh, Prologue era una sorta di avventura nei panni di un agente che veniva inviato su quest'isola e cercava di uccidere un tizio. Poi, se giocherete Prologue, dura meno di due ore e scoprirete come va a finire, scoprirete l'epilogo di questo prologo. Invece, Die Young è, nello specifico, l'avventura di una ragazza che appunto viene rapita, portata su quest'isola nel Mediterraneo e da cui dovrà cercare di fuggire. È un open world a tutti gli effetti dove dovremo costruirci la nostra via di fuga, le nostre armi e tutto. E ovviamente nel prologo si va a capire quanto è profonda questa ambientazione. Allora, ci sono due modalità. L'adventure mod, il miglior modo per godersi l'esperienza, è la storia, raccomandato per i nuovi giocatori. Praticamente i fuochi possono essere creati dall'inizio. La versione survival, invece, è quella a difficoltà più elevata, è un'esperienza un po' sanguinolenta, sudore lacrime, insomma, quello che dicono qui è questa. Ma io farei l'adventure mod, giusto per vedere com'è l'inizio, però non voglio spoilerarvi troppo. Ero nata nella bella vita, insomma. Mi è sempre piaciuto eccedere, vivere sensazioni forti, ho provato di tutto. Ero solo, non ero dipendente da qualcosa, ma ero dipendente dall'adrenalina. Ho sempre corso fino al limite, insomma, l'ho risultato di questo. Nulla mi ha preparato per quello che mi è accaduto su quest'isola. E pensavo di girare per l'estate, di divertirmi, insomma. E non avevo idea a che cosa sarei andato incontro. Un incubo, che è appena successo, tutto è offuscato. Io sono sicura di essere stata sepolta viva. Mi sento dizzy, non so cosa... dove sono? La mia gola brucia. Acqua, ho bisogno di acqua. Siamo in un pozzo? Ehi, ehi, aiutami, aiutatemi. Che cavolo! Che cos'è? È una mappa? Eh, il gioco sembra senz'altro interessante. Ovviamente, come ho detto, ho giocato il prologo. Il prologo non è vasto come è il gioco. E ho avuto piacere di notare che per un gioco italiano si è creato un certo entusiasmo, perché ho visto che tanti scrivevano sulla pagina delle discussioni del gioco su Steam, chiedendo, ma quando esce? Quindi, insomma, era ben richiesta questo rilascio ufficiale. Ho raccolto con tab una mappa dove posso vedere dove mi trovo, pozzo, acqua. Questa è una cosa stilizzata. E intanto, qua si può vedere il crafting, che alla fine è uguale al prologue. Se qualcuno di voi ha giocato il prologue, mi sembra, penso che è uguale. La lista delle cose da fare. Scalare il pozzo, trovare una fonte d'acqua, trovare una torre costiera, andare giù nella torre, seguire il sentiero della costa, attraversare il cancello, raggiungere la torre. E ora, anche una moneta. USB to compass, ok, per fare la bussola. Allora, facciamo una cosa, andiamo subito a vedere la mappa. Noi, ah, ok, questa non è la mappa che abbiamo trovato disegnata a mano, ma io vorrei vederla, questa mappa che ho preso in mano. Ok, qua invece ci vengono date le missioni. Fuggi dall'isola, e va bene. No, volevo vedere quella mappa che abbiamo recuperato prima. Vabbè, insomma, dovevamo andare più o meno in direzione nord-ovest. Quindi dovremmo andare in quella direzione lì. Spazio per arrampicarsi. Sì, le animazioni sembrano, cioè, per essere una prima persona, è veramente interessante. Poi vi ho detto, io ho già provato la versione primaria. Io so già che scopriranno le polemiche sul fatto che io ho portato un gioco prodotto da italiani, non in italiano, quindi so che fioccheranno i commenti, io non lo compro, ho già chiuso il video, e così via. E bisogna avere un po' di rilassaggita mentale, però. Allora, vediamo un po', analizziamo un pochino. Ah, ok, qua abbiamo la possibilità di salvare. Quick save, save. Allora, con la E salviamo, col quick save. Con la Q facciamo un save direttamente, in modo che andiamo a ricaricare la partita in caso di morte. E poi possiamo andare a cucinare roba. Intanto recuperiamo materiali. Diamo un'occhiata intanto la bussola. Nord, il nord è di là, quindi nord-ovest, dovremmo andare di là. Insomma, bisogna trovare una fonte d'acqua, e ovviamente bisogna fare attenzione anche a non farsi beccare da nessuno. Non sappiamo il motivo per cui siamo stati rapiti, non sappiamo il motivo per cui siamo finiti in quel pozzo, e quindi cercheremo di sopravvivere come meglio possiamo. Con il tasto alto possiamo usare la percezione, quindi andare a vedere tutto quello che abbiamo intorno, con cui possiamo interagire. Possiamo accucciarci col tasto C. Vediamo se si può anche correre, no. Ovviamente andremo a nasconderci nell'erba alta, nei pressi di queste case. E vediamo subito se andiamo a morire male o no. La B, vediamo un attimo. Non stiamo andando in nessun modo verso nord, ma non riesco purtroppo a recuperare quella mappa, che non so dove mi sono messo. Qua possiamo scegliere quattro oggetti da utilizzare con i tasti 1, 2, 3, 4. Qua abbiamo gli accessori, la bussola. Possiamo craftare delle bende se avessimo dei fiori, delle cure. Qua possiamo farci un coltello, ci serve delle parti metalliche, uno di legno e una corda che non possediamo. E qua invece abbiamo la possibilità, con un pezzo di legno che abbiamo raccolto, di fare un fuoco, quindi salvare la partita. E vedete lì la grossa differenza con la modalità hardcore, dove non possiamo fare i fuochi, ma probabilmente possiamo usare solo quelli già presenti. Lì sotto c'è un cinghiale, sembrerebbe un maiale nero. Comunque noi ci muoviamo con circospezione. Posso fare un'altra scansione? Vabbè, uccidere una cappetta a mani nude non è una grande idea. La mappa, ecco, vedete che questa è una zona indicata dalla mappa, quindi è qui che dobbiamo andare per trovare dell'acqua. Ok, trova le case gemelle. Ci hanno aggiunto un compito. Sì, vabbè, trova una... Sì, beh, certo. È quello che avevo già detto io. Uh, vediamo un po'. Ok. Silenzio. Ovviamente è un gioco che emette ansia. È un gioco che è dedicato, e questo ve lo dico con una discreta certezza, è un gioco dedicato a chi ama. Uh, scusate. Ok. Ho preso un topo morto, non so cosa farvele, ma lo cucinerò come Starbound. Eh, ve lo dico con una certezza abbastanza sicura, questo è un gioco che amerà chiunque appassionato di horror, di giochi che mettono tensione, e soprattutto di survival. Quindi... Ah, devo premere, ok. E beviamo. C'è qualcosa che ci sta volando qua a fianco, che non so cosa... Una libellula bella. Beh, tanto non ci fai niente, almeno non credo, non ho mai saputo... Perché non mi sono mai voluto avvicinare a una libellula, ma non credo siano velenose. Allora. Shhh, silenzio. Ci sono tante case... Abbiamo preso un po' di roba, anche delle bottiglie per fare... Possiamo usarle anche come diversivo, perché possiamo lanciare le bottiglie e quindi far allontanare le persone. Nel caso in cui trovassimo qualcuno che sta sorvegliando una zona, buttiamo una bottiglia in un punto e... Ho bisogno di tè, Topolino. Mi spiace. Però... Devo sopravvivere. Mannaggia. Ho troppi oggetti equipaggiati, quindi... No, dai, va bene. Ho anche del cibo in scatola. Saliamo di sopra. È solo che ho paura che... Mi possano ferire. Beh, possiamo saltare giù, no? Sì. Ok, ora. Cosa dobbiamo fare? To-do list. Find the coastal tower. E trova la torre costiera. Dove cacchio è la torre costiera? Andrà la costa. È quella là? Eh sì. Potrebbe essere quella, perché... O quella. Qua non vediamo di più di quello che abbiamo, quindi... Torre costiera. Odio tra le due mi ricorda più una torre quella. Quindi andiamo di là. Sperando non ci siano rotture di scatole nel percorso. Anche se ho guardato un pochino online e succede veramente finimondo se non si sta attenti. Quindi bisogna muoversi sempre con circospezione. Cercando di evitare tutto quello che non possiamo permetterci di affrontare. In questo caso io magari farei una prova e mi metterei, giusto per crearvi un po' di impodansia... Mi metterei, ci stiamo vicino anche al mare, quindi al massimo facciamo un giro. Mi metterei qui, sotto la costa, e prenderei il crafting e farei il... La ricetta. Wood. Ok, materiali. Perché sono full? Perché non ho spazio negli oggetti. Quindi a questo punto noi... Che cavolo... Discard. Scartiamo... Una bottiglia? Ok. Quindi in questo caso possiamo craftare il fuocarello. Almeno credo si possa fare perché... Ok, sì, 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 sì. Lo possiamo fare. E lo abbiamo messo qua nello zaino. Lo usiamo. Ci ha salvato la partita? Dovrebbe averci salvato la partita. Perché io non ce l'ho più qui. Riprendiamo la bottiglia. E dovremmo aver salvato la partita. Perché non credo me l'abbia messo giù, quindi... Va bene, andiamo avanti. Non ho visto la scritta, ma va bene. Prendiamo altre bacche. In basso a sinistra vedete la vita, la sete, il nostro stato fisico. Ok, abbiamo trovato la watchtower, la torre costiera. Ci hanno aggiunto un compito, quindi andiamo a vedere che cosa bisogna fare. Trova la... No, ok, l'abbiamo trovata. Qual è la cosa successiva? Andare giù dalla torre. Go down. Vediamo se magari è una sorta di tutorial per capire come funziona... Come funzionano i movimenti, i movimenti che ricordano molto un pochino anche Dying Light. Sì, io sono arrivato qui, ma non c'è più niente da fare. No, mi devo arrampicare. No, boi, che botta. Va bene. Entraiamo, entraiamo a questo punto. Entraiamo e poi vediamo. Abbiamo una corda. Allora, the door is locked. There's a broken key. Ah, c'è una... Ok. Una chiave rotta nel cilindretto. Ok. Quindi, a questo punto dovremmo saltare su. Perception. Usiamo Perception. Fin qui ce l'avevo arrivato anch'io che bisognava salire qui. Quindi. No. No, lasciati andare, va. Che non ho ben capito perché sei così inetta a salire, ma... Chiunque salirebbe su una torre del genere, insomma... Nel vuoto. No. Non si riesce a salire. Eppure... Allora, qua dentro si vede qualcosa. Uso di nuovo la percezione e mi dice di andare di là. Allora, andiamo di là. Eh, io guardo di là. Ma non va. Che mi sia buggato. Provo a farlo a mani libere. Mi sono mangiato la lattina che avevo in mano. Vediamo se adesso posso saltare su. No. Non riesco proprio... Non riesco davvero a capire che cosa mi sta dicendo di fare. Ok. Dopo aver provato numerose volte ho capito che cosa sbagliavo. Praticamente... Bisogna praticamente saltare qui. Puntare l'altro punto. Vedete che il tasto del mouse cambia. E a quel punto possiamo arrampicarci. Abbiamo scoperto una cosa nuova. Che però dà meno, diciamo, approssimazione in quello che stiamo facendo. Ottimo, ottimo così. Tra l'altro ho anche provato a ricaricare la partita. A vedere se salvava con qualche, diciamo, malus. O si partirà in punti diversi. In realtà si riparte dove abbiamo fatto il fallo prima. Con l'unica annotazione da fare che sono veramente dei caricamenti di una lunghezza veramente estrema. Quindi, niente. Adesso cerchiamo di scendere. Cercando di... Ok, di non ucciderci. E... Oddio, la musica inizia a non essere proprio... Oddio. Sta battendo proprio... Chi c'è giù? Chi sei tu? Fammi uscire, ti prego. Ehi, rilassati. Non voglio farti del male. Grazie al cielo. Per favore, apri questa dannata botola. Ho bisogno di una chiave per farlo. Non so dove... Ma c'è un chiavistello. Arrimarò qui ancora a lungo. Ascolta, non è facile, lo so. Tieni duro. D'accordo. Chi sei tu? Qual è il tuo nome? Vediamo chi c'è sotto la botola. Michael. Mi chiamo Michael e non voglio morire qui. Sì, nemmeno io. Si chiama Diane Young appunto perché se... Siamo giovani, insomma, come detto, e non vogliamo morire qui... Troverò una via per andare via di qui. Se lo dici tu... L'ultima cosa che mi ricordo, i miei amici correvano via... E qualche stronzo mi colpiva. Puoi dirmi meglio... Spiegarmi meglio che cosa è successo? Ci siamo accampati vicino a un passo montano. Danny stava facendo casino con la Roid. E JD faccia qualcos'altro. Improvvisamente un gruppo di tizi è venuto verso di noi. Va bene. E come sei arrivato su quest'isola? Ho sentito su internet... Ah, questa è una vicino alla costa della Turchia. È una delle isole dimenticate da Dio. Non ci sono traghetti, non ci sono voli, nessuno vuole arrivare. C'è avventura, mistero e ingredienti per una vacanza pazza. Pensavo. È inaccessibile. E sì, sicuramente sei. Ah, ho convinto con mille lire Turchia a portarmi qua a un pescatore, ok. Praticamente chi visita quest'isola viene rapito in pratica da quello che si capisce. Va bene. Va bene, dai. Non posso rimanere. Eh, ho capito, devo andare a cercare la chiave io. Ma non è che... Tornerò qua per te, lo prometto. Sì. Allora, adesso dobbiamo uscire di qua. Allora, voglio vedere un secondo una cosa. Perché missioni... Abbiamo un sacco di missioni. Dobbiamo trovare questi posti. Ci sono altri punti disegnati sulla mappa. Non so se possono essermi d'aiuto o... Vabbè. Li troverò, li spunterò una volta che li avrò visitati. Ci sono le rovine del tempio, che sono quelle che probabilmente vediamo lontano. La farm, il maniero della fattoria lì. La casa sulla spiaggia, la pineta e il mountain pass, dove c'era sto tizio qui. Ok. Esplora le Twin House. Attenzione, dice... Sono stata abbandonata per un momento, ma non c'è davvero nessuno. Ripara la pompa rotta. Ha rotto la pompa dell'acqua, quindi devo trovare una chiave inglese e ripararla. Salvarà il prigioniero. C'è un tizio intrappolato nella... Nel faro, insomma, nella botola del faro. Forse può aiutarmi a andare via. Non voglio lasciarlo sotto, ma devo trovare la chiave. Alcuni tizi si sono stati attaccati mentre si stavano accampando vicino al passo montano. Vittime del mio rapimento, anche loro. Forse uno di loro è fuggito, trova il campo. Ok. Abbiamo già diversi spunti su come agire. Cioè, diverse strade da poter intraprendere per cercare di andare avanti. Abbiamo le rovine, là. Là in fondo invece c'è una torre, di nuovo c'è una foresta. La pineta, un passo montano che potrebbe essere là. Mi ha messo il dubbio se davvero non è abitata quelle doppie case là. Quindi magari proviamo ad andare a vedere. Bisogna fare sempre attenzione a tutto quello che non conosciamo. Siamo completamente nudi, eh. Più o meno quasi. Quindi bisogna fare attenzione. Ho craftato anche il coltello che adesso vado a, col tasto destro, aggiungere al 2. Possiamo colpirlo e così andiamo a riparare. C'è un coltello fatto proprio di fortuna. E niente, non ci dà troppe indicazioni. Ovviamente dovremmo essere furtivi, dovremmo muoverci con circospezione per non morire. Ovviamente dobbiamo ricordarci sempre di mangiare, di bere, di tenerci belli in forma perché... Mi ha messo il dubbio. Siamo sicuri che non sia abitata? Vabbè, noi intanto salviamo la partita che questo è un fallo permanente quindi restiamo qui. Però... Sì. Quella l'abbiamo rotta e dobbiamo ripararla. Dobbiamo trovare una chiave inglese. E qua io onestamente non ci vedo nessuno. Adesso ho scivolato però. No, ragazzi, non c'è nessuno qui. Oh. Oh. Questo io non lo sapevo. Attenzione, c'è una stanza qui che non possiamo vedere ma che forse... Eh no, mannaggia. Dobbiamo capire come entrare da qui. Perché qua dentro c'è una chiave inglese. C'è anche una stanza di là che non capisco come si faccia a... Vediamo un attimo se dal crafting si può fare qualcosa di utile. Magari un piede di porco, no. Una molotov si può fare per bruciare quelli assi lì. Vediamo. Qua possiamo cucinare la carne ma ci serve un fuoco da non usare ma ovviamente da tenere come materiale crafting. No, la molotov non la possiamo fare. Dobbiamo trovare delle ricette per poter fare quelle cose lì. Ok, diamo un'occhiata qua. Se c'è qualcosa da poter... No. No, evidentemente no. Mi viene il dubbio. Faccio una scansione. Ci sono altre case là. Magari prima di lasciarvi le andiamo a vedere. Voglio fare una scansione anche al piano di sopra. Vedete se trovo qualcosa. E' un gioco che mi incuriosisce molto. Avete visto che comunque l'inglese è abbastanza basilare ma non è che ci sia molto poi da capire. Ho raccolto degli scrap metal ancora ma che non mi danno accesso a nessuna ricetta nuova. Dobbiamo proprio andare a scoprirle. Voglio fare la scansione qui. Dobbiamo attendere ancora per usare la percezione. Ma adesso io voglio provare a usare il bastone. No, direi che non è il nostro. No, non... Non abbiamo trovato nulla. Allora, intanto ci avviciniamo con le case là e vediamo se troviamo qualcosa. Il gioco è senz'altro interessante. Spero lo traducano giusto per renderlo un pochino più scurrevole. Prodotto da italiani. Con la Unreal Engine 4. E sembra molto interessante perché è un open world a tutti gli effetti su un'isola abbastanza grande. E non grandissima. E dove dobbiamo scoprire che cosa c'è successo, chi ci ha rapito e perché questa gente sta rapendo altre persone, soprattutto turisti, su quest'isola a quanto pare a largo della Grecia, della Turchia. Noi che ci stavamo godendo la vita sfarenata dei giovani, l'altro che è chiuso sotto che è stato rapito mentre si accampava con gli amici. Qua non sappiamo che cosa sia. Di sicuro sappiamo che c'è qualcun altro sull'isola, ovviamente ci saranno animali, ci saranno persone da cui dovremo fuggire, che dovremo magari agirare furtivamente per non farci uccidere. E quindi far sì che non moriamo giovani. Ecco, come in questo caso. Ragazzi, questo era Dayang, fatemi sapere se siete interessati ai nuovi gameplayi. E alla prossima, ciao ciao! A presto!